Intanto parliamo di allergie da veleno di menottere, i vespidi per punture di api, per renderci conto. È una cosa gravissima perché può essere anche fatale per shock anafinattico. Ci sono tanti cittadini che soffrono appunto di questa patologia e sono costretti ad assumere un farmaco a salvavita e un vaccino. L'Als di Pescara e l'Als di Teramo costringono i pazienti ad acquistarli da soli questo farmaco direttamente all'azienda farmaceutica per un costo di 300 barra 350 euro con una media ogni sei mesi e poi procedono al rimborso. Mentre l'Als di Chieti e l'Aquila hanno fatto dei bandi e acquistano direttamente dalla casa farmaceutica, come dovrebbe fare ogni pubblica amministrazione e lo dà gratuitamente tramite la farmacia ospedaliera. Allora cosa comporta questo? Che intanto il costo è nettamente maggiore quello dell'Als di Pescara oppure perché devono rimborsare quando un paziente da solo contratta con la casa farmaceutica per un solo farmaco costerà l'imperezzo pieno, mentre se l'Als fa una gara e acquisterà migliaia e migliaia di farmaci si abbassa notevolmente il costo. Quindi intanto ci potrebbe essere un problema proprio di sperpero e di spreco di danaro pubblico. Poi i cittadini hanno un disagio pazzesco nel richiedere il rimborso di questi farmaci. Infatti una volta che hanno pagato questi 350 euro si attiva tutta una progettura farraginosa di rimborso e alcuni di loro stanno aspettando anche da sei mesi, da sette mesi, da otto mesi. Non solo, altro problema. La somministrazione, il vaccino si fa solo nei centri ospedalieri. Ho fatto un'interpellanza alla regione Abruzzo un anno fa, mi ha risposto l'assessore Paolucci dandomi ragione dicendo che dobbiamo uniformare l'acquisto su tutto il territorio regionale mediando gara. Ad oggi stiamo ancora a denunciare lo stesso problema.